E' arrivato il momento dei pesci. Allora pesci, cambio pelle, è un po' come sbarcare finalmente, cambio squame, è un po' come sbarcare finalmente in una nuova vita dopo dieci anni di limbo, dopo dieci anni di sala d'attesa, come se fossero, diciamo, si fossero imbarcati per un viaggio dieci anni fa e fossero rimasti bloccati nella zona transit di un aeroporto, come Tom Hanks in Terminal. Ci voleva del tempo perché certe aspirazioni, certe ambizioni, certi desideri fossero maturi, a questo punto lo sono. Nel 2023 arriva Saturno in pesci, gli dà proprio le carte in regola, il passaporto in regola per poter attraversare quella frontiera, per cui dalla primavera qualcuno comincerà finalmente a trovare una maggiore continuità sul lavoro, a fare il ruolo che desidera, a cambiare quello che non funziona nell'organizzazione della propria casa o se non addirittura a pensare ad un trasferimento. C'è proprio un desiderio di andare altrove, nel cielo dei pesci, ed è anche a livello geografico, cambiare città, cambiare ubicazione, questa è una possibilità che hanno. Qui sotto sentiamo... Eh, la sento sgarappare da sotto. Eh, sentiamo, esatto, in pie state of mind, perché? Perché ovviamente New York è la città della verticalità, delle mille opportunità, la città che non dorme mai, i pesci sono pronti proprio per... Per il sogno americano. Per il sogno americano, non ci sono limiti, per cui altro segno che nel 2023 spacca. Beh, se si deve partire per un viaggio è bene sapere quali sono i mesi, anche per fare la valigia adeguata. Esattamente. Allora, per il lavoro i mesi top sono maggio e ottobre, mentre per l'amore sono febbraio e maggio, maggio come avrete capito, è un grande mese. Aprono un po', insieme all'acquario, il mondo dell'amore. Aprono le danze, già da quest'anno, dagli inizi dell'anno e i segni migliori sono il toro, il cancro e la bilancia.